Un grande evento che si ripete per noi casamicciolesi, Don Carlo, sono passati 22 anni, sembra un giorno che abbiamo visto San Gabriele, ritorna a Casamicciola. Quali speranze e quali prospettive, non solo per i giovani, per Casamicciola e per l'isola intera? Sì, infatti il titolo, slogan scelto è stato proprio San Gabriele pellegrino di speranza, perché Casamicciola, che è una terra ferita più volte dall'alluvione e poi dal terremoto, ovviamente ha bisogno di parole, di speranza. San Gabriele, un giovane che ha vissuto la sofferenza pur nella giovane età, è stato visitato dalla sofferenza, che l'ha vissuto però con la fede cristiana, con la speranza e soprattutto col sorriso, ecco perché è il santo anche della gioia, del sorriso, credo che veramente possa portare a tutti, non solo i Casamicciolesi, ma penso alla nostra terra di Ischia, dell'isola di Ischia, una parola di speranza, una carezza e soprattutto tanto coraggio, perché è un tempo in cui davvero ne abbiamo, siamo a riserva, siamo a corto di speranza e di coraggio, soprattutto penso per i nostri giovani. Non è un caso che stiamo vivendo ormai già da tanto tempo anche sulla nostra isola, come ormai in tanti luoghi della nostra Italia, una sorta di emorragia, cioè le nostre città stanno vivendo una morte lenta, dove tanti nostri giovani vanno via, perché non trovano più i nostri luoghi, la nostra terra, una terra abitabile, accogliente, non solo sotto l'aspetto, credo, lavorativo, ma già questo sarebbe importante. E inoltre, ovviamente, si tocca con mano, questo è sotto gli occhi di tutti, e dove spesso tutti quanti ci sentiamo impotenti, è soprattutto il grande disagio che i ragazzi oggi stanno vivendo. Le cronache anche di questi tempi, di questi giorni, ce lo dicono, ce lo spiattellano con forza davanti ai nostri occhi. Quindi, Gabriele, credo che sia una parola di Dio, fatta carne, che viene a consolare, a confortare, a incoraggiare, a dare speranza. Questa occasione porterà certamente, oltre quello che diceva prima, quello che porta, porta sicuramente tanto ottimismo e tanta speranza. Speranza che finalmente Casa Micce la possa vivere un momento di serenità e tranquillità. Veniamo da anni difficili, dove purtroppo madre natura ci ha riservato anche delle brutte sorprese. Oggi siamo in via di ripresa, stiamo cercando di sistemare tutto quello che è accaduto nel 2017, ma anche nel 2022, dove purtroppo ci sono state anche delle vittime, che ancora oggi ricordiamo con tanto dolore e cerchiamo di riservare un pensiero in questo momento anche a loro e ai loro familiari, che ancora oggi soffrono tanto. La venuta di San Gabriele dà questa speranza per il futuro, che finalmente per Casa Micce ci sarà un futuro migliore, un futuro dove possiamo sorridere, un futuro dove possiamo portare al meglio le nostre future generazioni.